Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un Nokia X7, adesso vediamo di registrare un video demo, soliti 3 minuti circa, il video viene realizzato in alta definizione nella versione, diciamo, migliore per questo Teletta. Sarà poi pubblicato online così com'è, come la nostra abitudine senza metterci mano. Il telefono è disegnato soprattutto per un pubblico che va a sfruttarlo per le sue capacità multimediali, parliamo quindi di foto, video, musica. Il design è molto particolare, personalmente preferisco N8 rispetto X7 tuttavia. è un cellulare in gamma e come tale viene da noi analizzato. Come vedete, quando eseguiamo un panna rapido, comunque lo zoom viene gestito bene, poiché torna a fuoco in poco tempo, in ogni caso visto che come costo si tratta di una fascia decisamente simile a quella di appartenenza di N8, diciamo che le mie preferenze vanno verso N8, vuoi perché è più compatto, vuoi perché è dotato di camera da 12 megapixel. In ogni caso le nostre conclusioni le andremo a trarre sulla recensione finale, pertanto vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito ad iscrivervi anche ai vari canali social che abbiamo attivato per voi. Questa demo video termina così, io vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzini. Grazie.